Beh, sicuramente qualche disco di Bill Evans, tipo quello con l'orchestra, con Klaus Hogerman, proprio con le cose di musica classica, che secondo me è da ascoltare, o Symbiosis, che lui ha scritto. Poi, non so, Miles, Beach is Blue, che è meraviglioso, o qualche tipo, non so, Le Ballad di Coltrane, per esempio. Un altro che adoro, un altro disco che sentivamo molto con Michelle Petrucciani, con Aldo Romano, quando venivano, un disco di Joao Silberto, amoroso, sempre con l'orchestra di Hogerman, dove c'è estate, che è un capolavoro assoluto. E poi, vabbè, poi siamo cresciuti noi anche con i Weather Report, un grande amore, Wayne Shorter, tutto quel mondo là, insomma, quindi, non so, Night Passage, ma insomma tutti i dischi. Cioè, hai citato dei dischi che fanno parte della storia del jazz, ma anche che sono spesso criticati da coloro che sostengono il jazz della tradizione, no? Sì, che poi vedi, questo è il mio pensiero, chiaramente molto soggettivo, poi opinabile, no? Però io credo che, cioè, considerare il jazz solo un periodo storico, appunto quello che dicevamo prima, no? Cioè, nel senso che ovviamente il linguaggio nasce in America obiettivamente, dà un percorso anche sicuramente di persone di colore, perché il linguaggio l'hanno inventato Charlie Parker, ho capito, piuttosto che appunto John Coltrane, insomma, il Bebop, l'Arbop, eccetera. Però quella, ritorniamo al discorso di prima, faceva parte anche di un periodo molto storico, capito? E il jazz, secondo me, sarebbe morto se si fosse fermato lì. Miles ha insegnato questa cosa, cioè lui ha suonato quella musica con Erbienko, con Tony Williams, ma poi ha fatto appunto British Spree, ha suonato con Ciccoria, eccetera, fino alla fine che prendeva appunto dei pezzi di musica pop come Michael Jackson, In After Time. Capito, esatto. Perché? Perché comunque aveva un occhio, appunto, curioso, curioso di vedere cosa succedeva nel presente. Quello non è che non è jazz o è da dire no, questa non è una cosa. È, secondo me, un preseguimento. L'abbiamo chiamato prima Dixieland, poi Arbop, Bebop, Free Jazz, Cool Jazz, Rock Jazz. Ma secondo me è semplicemente l'evoluzione, giustamente, meno male che è così, perché così vive, perché sennò diventa una musica di repertorio, va benissimo. Sentiamo quella musica classica così, però questo è un mio pensiero, ovviamente. Quindi io non considero il jazz solo lo swing, considero il jazz anche... Volutamente te l'ho fatta questa domanda. Appunto, questa è chiaramente una mia opinione, non voglio... No, ma è l'opinione di molti. Sì, e ancora adesso il jazz, infatti, ha un'evoluzione, è ancora contaminazione di contaminazioni, nasce con contaminazioni di ritmi africani, armonia europea, e continua questa cosa. Adesso, appunto, questa fusione, i primi sono stati, non so, Steve Coleman o piuttosto che Dave Holland, che hanno fatto delle esperienze con Sakiro Sen, per esempio, così anche con Garbarek, quindi attenti alla musica indiana, quindi un altro concetto proprio ritmico, di suonare meno, ovviamente, su una scala modale, no? E meno, diciamo, evoluzione armonica, però comunque grande evoluzione ritmica. E quindi quelli sono tutti ingredienti che secondo me servono per trovare... Cioè, veramente, più materiale uno ha, come un pittore, più colori hai, più riesci a fare delle cose. Non è necessario che tu utilizzi tutti i colori, però se sai, insomma, se hai più ingredienti o la cucina, puoi cucinare di più.